Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, siamo qui, oggi siamo qui su Call of Duty Black Ops 3 a fare 2 men 1 cup No, 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 non credi il video, no, no No, facciamo delle partite su, ora vediamo un po', uccisione confermata, veterano Uccisione confermata in veterano E praticamente Due persone con un pc Io userò solo questo E io solo la tastiera che ce l'ho sotto, non te la posso far vedere E qua c'è mirare e sparare e solo la scivolata E io invece posso muovermi e saltare e volare e tutto quanto Quindi sarà dura ragazzi, già siamo nabbi noi per conto nostro, noi siamo tutti e due Vediamo se si riesce a beccare qualche partita Oh dai che arriva gente, via via Uccisione confermata, mappa, avok Avok Bello, questa mi piace Allora, andiamo subito dentro là Vai, dentro lì Sarà un casino ragazzi Anche secondo me Via, si corre Ehi, guardami Ehi Volo Attenzione Ok, ora vai piano Vai, vai, vai Oh, eccolo Ehi, quasi, quasi, quasi Provevamo a scivolare la buca volta Eh, non ci ho pensato Io ce l'ho qui lo scivolare, non c'ho un cazzo qui Oh, che cazzo era questo No, da dietro Eh, ho sentito i pass, però, mica Ritorniamo lì, vai, vai, vai Ce l'ho bello alto il volume del gioco Malta Oh, scusate Malta Olè C'è nessuno C'è nessuno C'è nessuno Liano Liano Lì c'è l'alleato Quindi spavano di là Andiamo giù Non sono sopra, mi sa Sopra al centro Dici Ma, secondo me sì Ehi Ehi Iniziamo il cazzo Dai Attenzione Vai Qui dentro Qui dentro Liano Non c'è nessuno Di qua, di qua, di qua, di qua Guarda le wav Oh, vai, prima chiede Vai Attenzione Salta Olè Oh Oh, gravito Che sfida Vai dritto Vai dritto Andiamo dritti Andiamo tutto su Dalla bomba Madonna Ci sta per inculare Quello Oh L'avevo visto qualcosa E si muore Premi questo qua Quando Quando Siamo in mezzo alla minchia Alla mischia In realtà Ragazzi è difficile giocare così Madonna Non bisogna usare Il jackpack Vediamo un po' Per noi tanto Due kill le abbiamo fatto Siamo solo a quota Quattro morti Vola, vola, vola Vola, vola Vola Quella di Mi meti che la giungla Bello Dove cazzo era? Eh, cacchio sei Spider-Man Madonna Vai sotto, vai sotto Sto si pide là sotto Attenzione Su Tutto su Tutto su Eh, macchia Cazzo Vai C'è gente C'è gente? C'è gente C'è gente C'è gente C'è gente Ma donna per un pelo Attenzione Volo 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 Eccolo No Mi ha messo la corsa Capo Pissio Come secondario abbiamo la pistolina Quindi Volendo Oh, e tu? Non ce ne siamo accorti Oh, comunque dai Tre kill per la nostra prima partita Divisi in due Non è malvagia Abbiamo fatto le teste prima Ma non si facciamo Anche una kill qui Oh, eh Da questa parte Uh, piastrina, piastrina Figliata, figliata Da questa Oh, oh Dai, dai Abbiamo killato Vale, ragazzi Vale Che cazzo sei? Lo fanno di qua C'è gente qui Non li vedo C'è gente qui su Eccolo Da Da dove Eh, lo a destra Andiamo Su 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 Cerchiamo Di ragionare Stiamo sempre sui lati della mappa Vai Attenzione Ho visto una piastrina No, no Quella era un perlava Lì dietro Diteci che era No, qua 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 Ah, qua Ah Micchia Come 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 si vede bene Vado di come nuota Ah, ecco Vai con lo spazio Aspetta Uh Dai, ce l'ha Quella Ah, no, ce l'ha Dai Si sta facendo una buona cosa Dove cazzo è? Oh, che l'hanno abbattuto No, è ancora lì È trasparente Vai, muori Madonna, dai Sali su in mezzo Oh Ho fatto una scivolata Non so che cacca è Guardalo Che cacca Ma io premo Oh, assist Assist Assis 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 Eccolo Eh, dai Andreone che ce la fai Era sotto Era qui sotto Era dietro Minchia Dai Ma dai C'è il suo Un pagno dietro Di qua Di qua Di qua Di qua Piano Inversione Via bomba No, minchia Eccolo Andre Riflessi Piano Occhio che c'è la trappa Della piastrina Ok, vai, 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 vai Sotto Sopra Oh Eccolo Aspetta voi Saltavi, cavolo Eccolo 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 Conocendo i nicolo Faccio così sempre E' qui, è qui, è qui Dai Cacca troia Grandi Non ce l'ha data a noi però Come no Non ho visto i punti Forse è sparita Dove andiamo solo giù Sopra, sopra, sopra E' bello Si incastra tutto Eccoci qua Dietro, dietro, dietro Riffanato di qua L'alleata Piano Sotto, 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 sotto Sotto dove? Dietro Eh, devi c'è te dietro Ah, già Oh, vai, dammi il cu Vai Guarda sui cazzi Ecco l'acqua Oh, me l'ha messo Non c'abbiamo un cazzo Da abilitare Sì Che trick tu puoi abilitare Attenzione Dove cazzo? Eh, è caduto dal cielo Piano Piano Andiamo avanti A bomba Bomba Centro mappa Centro mappa Pa Boh Non so nemmeno io Da dove era Ecco qui Oh Io faccio così Poi Oh Quando l'allessima Madonna sto per vomitare Oh è questa Oh Presa Occhio che non è mai da solo Piano Piano Non ti mando ma lascio Vai giù Vai giù Piano Sono tutti lì Porca puttana Ma che paura Ma che paura Devo essere giù Ma paura Vai 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 Olè Olò Jumpy tech Eccolo Io ho fanato però Da minchia Oh è questo Non ti manda Bastardo Allora Cazzo così L'ho uccidato Centro punti in più Dietro Dietro dove? No Minchia grande Che riflessi Che riflessi Ah il loro spawn è lì Quindi sono qui Siamo nel loro spawn Vuolare Madonna Da dove cazzo c'ha preso Vorrei sapere Da dove? Occhio Occhio Eh beccato un film Oh no Sì a finire la partita Shubibu è preso Madonna Madonna Si stava per sparare tu Eh Se si mettono davanti Non può Eh si è fatta una tripla Madonna Ma ci sta la bomba? No Occhio Occhio Vai in volo Mia I gradi Andiamo un po' Vediamo un po' Dalla finestra Dalla finestra Ecco Ah Oh oh Ah non era nostro Non era nostro Meno male Vediamo la kill finale Sono fatto un aereo Bellissimo Lo rate Lo rate Lo rate Sembra quello di Ironman Stai aereo qui Mi metti qua bestia Cazzo Madonna Oh Ora vediamo il punteggio Oh Il punteggio 729 Però 8 confermate Androne 8 confermate Meritano Ebbene ragazzi Questo video finisce qui Al prossimo video Ci schiambiamo Davvero Cercate di lasciarci qualche mi piace Quindi ci motivate a farlo E scrivete se faremo peggio O meglio Già Soprattutto O qualche previsione Sulle partite future Bene ragazzi Ci vediamo al prossimo video Ciao Alla prossima Ciao Alla prossima